ecco il nuovo muro a secco che costruiremo ecco il muro finito come vedete c'è ancora fango ecco il muro eccoci qui, qui faremo una scala in pietra dove c'è questo scoglio fine del cantiere ora rimane solo da togliere gli attrezzi del lavoro come si vede è tutto pulito eccoci qui eccoci qui adesso rifacciamo questo muro a secco qua eccoci qui 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 Grazie a tutti.